Domenica si celebra la 69esima giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro e la campagna di sensibilizzazione Non raccontiamoci le favole realizzata dal regista Marco Toscani. Vediamo il servizio, poi ne parliamo in studio con l'ospite che è appena entrato in studio. Grazie a tutti. Non raccontiamoci favole, sul lavoro non c'è sempre il lieto fine. In studio con noi c'è Patrizia Sannino, presidente di Anmil Campania. Dunque abbiamo visto lo spot di questa campagna, qual è l'obiettivo di questa iniziativa? Sì, l'obiettivo è quello di, intanto buongiorno, l'obiettivo è quello di ancora di più accendere i riflettori sul tema delle vittime degli incidenti sul lavoro. Domenica è una giornata per noi importante, è una giornata sotto l'alto patrocino del Presidente della Repubblica, è una giornata che vuole ricordare come ogni anno le vittime appunto degli incidenti sul lavoro, ma vuole anche segnalare il dramma che ancora oggi le famiglie vivono, le persone subiscono con gli infortuni e con le morte e quindi è necessario porre sempre più l'attenzione. La scelta dello spot, di questi spot, incentrata sulle favole, lo vuole fare in modo ironico, in modo delicato, ma arrivare a tutti, a parlare a tutti per far conoscere quando sia importante questo fenomeno e quando sia determinante la scelta di arrivare a quello che noi vogliamo, cioè eliminare tutto quello che ancora oggi noi assistiamo. Dunque, un modo leggero per parlare di quello che appunto lei giustamente definiva un dramma. Diamo alcuni dati, c'è un confronto tra il gennaio-agosto 2018 e il 2019, lo stesso periodo. Ebbene, c'è un aumento nelle province di Napoli e Salerno in particolare, ma in tutta la Campania. 14.640 gli infortuni denunciati nel 2018, 14.770 nel 2019, dunque più 0,9%. E purtroppo anche i morti aumentano nel confronto tra questi due periodi. 46 nel periodo gennaio-agosto 2018, 52 nel periodo gennaio-agosto 2019, mentre in Italia sono in diminuzione. Dunque, dati veramente allarmanti. Allarmanti. E noi chiediamo appunto che proprio il governo nella sua agenda metta al centro questi temi. Non è possibile che noi registriamo ancora una situazione tale. Tra l'altro in una condizione anche di situazione economica non del tutto favorevole. Cioè i dati in campagna ce lo dicono, le aziende hanno seri problemi. Allora com'è possibile che registriamo ancora questo tipo di situazione? Sicuramente c'è qualcosa che non va e sicuramente bisogna intervenire. Noi abbiamo chiesto con forza che ci siano più controlli. Gli ispettori necessariamente devono avere la possibilità di poter girare e controllare all'interno delle aziende. Chiediamo soprattutto una campagna forte di sensibilizzazione su questo tema. Chiediamo allo stesso modo che anche per le scuole ci sia l'opportunità di lavorare in questa direzione. Chiediamo proprio un'attenzione, un piano strategico da parte del governo e da parte di tutte le istituzioni che si impegnino affinché questo dramma che viviamo quotidianamente, perché in effetti noi arriviamo a parlare di tre morti al giorno all'incirca. Quindi veramente un dramma sociale che bisogna necessariamente intervenire. Quindi gli strumenti ci sono. L'altra cosa che per noi è importante è cominciare a mettere in mano anche, secondo noi, al testo unico. Perché il testo unico adesso deve essere adeguato alla nuova società, alle nuove esigenze, però per portare più tutele, ovviamente. Dunque secondo lei c'è da intervenire anche dal punto di vista normativo. Assolutamente. Ma anche le aziende devono investire più in formazione, in prevenzione? Le aziende devono necessariamente investire, c'è l'INAI che è un grande strumento da questo punto di vista. Perché per esempio con il BANGI si permette alle aziende di poter acquistare nuove strumentazioni, fare tante cose. Però ancora oggi assistiamo a una grande attenzione da parte delle aziende. Ma le aziende devono fare formazione e informazioni per loro stessi e per i lavoratori, se vogliono cominciare a invertire questo trend. Dunque ricordiamo in chiusura le iniziative per domenica, la giornata di sensibilizzazione su questi temi. Sì, allora a Roma è la giornata nazionale, perché chiaramente è una giornata nazionale. Per Napoli saremo nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, nel parco Troisi c'è una colonna spezzata che ricorda appunto le vittime, le persone che non ci sono più. Questa è la cerimonia diciamo civile, poi ci sarà il momento con la deposizione della corona dell'alloro. E poi andremo nella chiesa madre inconorata della consolazione con Don Ciro Scognamile, ci sarà il momento religioso. Quindi ci sono due momenti per noi importanti, molto sobri, molto leggeri, ma che vogliono testimoniare quanto sia importante invece porre l'accento su questa tensione. Quindi come sia importante esserci e essere presenti per quella giornata. Grazie a voi come Rai soprattutto di questo grande lavoro. Grazie a voi.